nono che vuole dici a penato? vuole dici il coso? ha domanda come sta penato? ha domanda l'arancio come sta penato? ha come sta? non stai la domanda di aprile e tu non mi hanno mandato niente a mia, dici l'arancio, lo devi domandalo sull'aprile, tu guarda quando sono venuto mio cane ha pesciato capo la gamba io ho un cane tu non ha mai un cane? tu non ho mai un cane? come hai un cane? io non ho mai un cane? non ho mai un cane? non ho mai un cane? come ti è bravo